Ok, entriamo un attimo Bene così! Bene così, mi fa davvero piacere questo buongiorno Ok, devo giocarmela bene Devo assolutamente giocarmela bene utilizzare graffio Ok, eccoci qua Devo giocarmela, devo dare il tutto per tutto Ok, dai che ci siamo, dai che ci siamo Ok, forse un altro colpo basta Un altro ancora, dai e Merda Vieni qua, vieni qua merda Vieni qua brutto ciccione obeso, vieni, vieni, vieni Aspetta, forse se mi metto qua riesco ad attirarlo Ok, ce l'abbiamo fatta Non era così difficile, l'altra volta solo ho perso La concentrazione e la tranquillità Dannazione Non sono riuscito a proteggerla Quello Cioè, ciò non sarebbe dovuto succedere Non doveva morire Ok, perfetto Non è successo nulla di che Ragazzi, noi in teoria abbiamo molte altre cose da fare Tra le quali andare a visitare la casa di Bill Quindi io direi che Entriamo qua dentro Salviamo Su questo state E andiamo ragazzi a visitare la casa di Bill Perché noi nello scorso episodio abbiamo ottenuto le chiavi Porta sbloccata Ho ansia di entrare Ok Non sembra esserci nulla Un quaderno Diario di Bill 19 febbraio Oggi ho modificato il sistema di deposito Pokémon Ora è possibile Rinominare i box Aggiungerò qualche feature al più presto Un sacco di allenatori di Pokémon mi hanno chiesto di migliorare la capacità del sistema E quindi l'ho fatto Ora ci sono 14 box disponibili Questa è un'altra feature sulla quale sto lavorando Una feature Grazie alla quale Sia possibile vedere i Pokémon sullo schermo È ancora una beta ma penso che possa finire presto Continuo a leggere Sì raga potrebbe esserci qualcosa di veramente utile qua dentro Me lo sento 28 febbraio Qualche giorno fa ho visto dei ragazzi con dei vestiti oscuri e neri Penso che fossero del Team Rocket Alcuni di loro stavano di fronte alla Torre Radio Che cosa stanno cercando di fare? Nulla di buono penso Questa organizzazione prova a conquistare qualsiasi cosa Come hanno fatto a Serulian City e a Zafferanopoli Serulian City dovrebbe essere Azzurropoli se non sbaglio O Celestopoli non mi ricordo Spero che la polizia riesca a fare qualcosa contro di loro Gunland Road è una città così pacifica Un sacco guarda Continua Mart 17 marzo Ciao diario Non c'è nulla di interessante in questo In questo recente passato Ecco perché non ho mai scritto Ma questo è cambiato adesso Most of the Team Rocket bailed Non so cosa voglia dire bailed Non vorrei Penso che Team Rocket non sia il problema più grande in questo momento Ultimamente ci sono dei strani assassini Le persone stanno impazzendo Ecco ragazzi ve l'ho detto che ci sarebbe stato qualcosa di molto utile Le persone stanno impazzendo Ci sono delle informazioni a riguardo Alcuni folks Che stanno Mangiando le persone Folks non so cosa voglia dire L'unico folk che conosco è la musica È veramente un'assurdità Non pensi? La polizia sta esaminando questi casi Spero che la situazione Oggi non so parlare Spero che la situazione non duri così a lungo Continua a sto punto Non so assolutamente che cosa scrivere Non ho mai visto qualcosa del genere Ora è risaputo perché alcune persone stanno cominciando a mangiare carne umana Queste persone non sono più vive Ma sono come si può dire Persone morte e pokemon che si sono trasformati in qualcosa di non morto Non lo so Che cosa diavolo sta succedendo? La città sta scomparendo Sta collassando E la polizia non riesce a fare più nulla È Gonwood condannata? Sì, continuo a leggere Non vado più via da questa casa Sono troppo spaventato Loro sono ovunque Solo, cioè Proprio ovunque Quest'infezione O qualunque cosa sia Vieni infettato quando vieni morso Le persone viventi The living people here now do know what That Now do know that Ah, le persone viventi in questo momento lo sanno Penso che la polizia lo sappia Ma non vogliono assolutamente dircelo Non so che cosa sia la causa di questa malattia Da dove è iniziata? Qui? O è venuta da fuori? L'unica cosa che so È che l'infezione Si è espansa troppo velocemente L'intera ioto è condannata o infetta Non so cosa voglia dire questa frase Spesso sia condannata o qualcosa del genere L'intera ioto è condannata Se non facciamo qualcosa riguardo 22 marzo Raga, Bill non c'è in caso Come l'impressione che si ha Ho visto qualcosa di strano recentemente Tipo degli zombie Quando stavo camminando Quando stavo guardando fuori dalla finestra Ho visto che un ufficiale della polizia A correre al game corner Raga, questo è Klaus che si è suicidato poi Ha chiuso la porta dall'interno E stava ridendo in maniera isterica Era così inquietante Ero molto curioso Ecco perché sono sgusciato fuori dalla mia casa Poi quando mi sono avvicinato alla porta del game corner Ho sentito quelle urla Ma non potevo aprire la porta Quel ragazzo aveva chiuso La città è persa Non c'è speranza Abbiamo perso tutti la nostra umanità E la nostra coscienza Sembra che Bill fosse di fretta Quando ho scritto queste ultime cose Devo fare una decisione Devo lasciare Goldnerrod Ho aspettato l'aiuto militare qui Devo approfittare Devo prendere in mano le mie sorti adesso Ho preso il mio pidgeot dal mio box Sono tornato indietro Al mio faro Sul percorso 24 Vicino a Serulian City Sarò sicuro là Forse il canto non è ancora infetta Chi lo sa Papà Spero che tu stia bene Volevo vederti per un'ultima volta Mi dispiace Ok no Mi ero sbagliato a leggere Non è che l'aveva fatto Ma lo avrebbe fatto Ok raga Bill è scappato E ci ha riferito Importanti informazioni su Klaus Ora torniamo dentro Tra l'altro potevo prendere l'altra strada Non so perché sono andato così lontano Torniamo dentro E vediamo un po' Se questa cosa fa Delle ripercussioni diciamo Sicuramente Adesso dovremo parlare a Dave E dirgli che raga la tipa è schiattata Che cosa è successo? Non è successo nulla? Lei Io Era là dentro Era la proprietaria del negozio di fiori Susanna Ma improvvisamente Il suo marito morto è risuscitato E la morsa Cosa? Cazzo! Ma E adesso? Il suo marito infetto era con lei? Ora riesce a capire perché le persone infette Non possono stare con noi È troppo pericoloso Per chiunque Sì ma Ma Lei non lo sapeva A quanto pare non sapeva che suo marito lo fosse Penso Capisco Ma la sua morte è sfortunata in ogni caso Conoscevo la signora Niente di personale Ma la vedevo abbastanza spesso L'ho vista nel matti L'ho vista L'ho vista La vedevo ogni mattina Quando apriva il negozio di fiori Penso che Penso che fosse stata lei a chiudersi là dentro Quindi suo marito è morto È morto di fronte ai suoi occhi Oh questo Questo non dovrebbe colpirmi così profondamente Ethan Io C'è qualcosa che devo chiederti Questa volta è qualcosa Qualcosa di personale Torna più tardi Se hai il tempo Per piacere Allora ragazzi Io prima voglio fare una cosa Questo signore qua Con cui abbiamo parlato l'altra volta Ho scoperto Che ci consegnerà Diciamo ci affibierà Una missione molto importante Adesso vedremo di cosa si tratta Ehi ragazzino Ho davvero bisogno di medicine Non voglio pensare a quello che potrebbe succedere Se non ne ottenessi delle nuove Quindi quelle pillole sono essenziali? No Certo che no Ovviamente puoi sopravvivere Quanto vuoi Con un Con perenni attacchi di cuore Non è un così grande problema Che domanda stupida Oh mio dio È sempre necessario Dover Avere delle medicine Quando Hai qualcosa al tuo cuore Ok? Stupido ragazzo Raga sembra giustino Di leone cane fifone Ok dopo sto commento di merda Possiamo proseguire Ora Ascolta qui Ho davvero davvero bisogno di quelle pillole Ne ho alcune Ma in qualche giorno Con In qualche giorno Le avrò consumate Avrò consumato il resto Insomma E se non avrò altre pillole Morirò qui Come un fottuto ratto Mi capisci? Stupido? Sì Capisco Le prendo sempre Prendo sempre le mie pillole Dal pokemon center Devi trovare le medicine Là dentro She will give it to you Ho perso un dialogo Penso sia un infermiero Qualcosa del genere Ah Ehi ragazzino Grazie A meno Così direi Ok ora dobbiamo parlare con Joyce A parte come la sono spoilerata Per sbaglio Ciao Ethan Walter mi ha parlato Del suo problema al cuore Prendeva le sue pillole Dal centro pokemon Ma un giorno Non è più arrivato Sembra che abbia ricevuto Le sue medicazioni Da qualche altra parte Nel frattempo Ecco Ho le chiavi del centro pokemon Perfetto Perché voglio fare prima sta cosa? Perché io spero vivamente Che nel centro pokemon Io possa curarmi O qualcosa del genere Perché L'infermiera Joy Ragazzi non può più curarci E siamo fottuti Siamo fottutamente Fottuti Spero che non ci sia Troppo casino Al centro pokemon Io salvo Perché devo imparare A salvare Perché tipo Poi quando perdo Mi devo rifare 25 anni Di gioco E non è una grande cosa Tra l'altro si Ho ammazzato un sacco di zombie Sul percorso Nel senso Tutti quelli che c'erano ancora in città Se non sbaglio erano 4 Non so dove sto andando Ok Centro pokemon Apriamo Porta sbloccata Ok Entriamo un attimo Bene così Bene così Mi fa davvero piacere Buongiorno Buongiorno Lei è un uomo Veramente caritatevole E soprattutto Puttano Puttano Sì ma non riesco a colpirlo C'è C'è un problema Guardalo Non riesco a prenderlo Ok 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 Raga Ok Sto per schiattare Ma ci siamo Figa ti prego Fammi curare Datemi un modo per curarmi Vi prego Questo pc è spento Raga purtroppo Lo scontro ravvicinato In sto gioco È il mio problema di base Dimmi che non ci sono altri Oh cazzo Quello è un chance Sembra che io Devo cercare Delle medicinali Insomma Mi puzza tanto Questo scaffale Vuoto Ehi Lì Sì ragazzi Godo Godo come un muflone Niente Ok Le scatole sono tutte vuote Devo assolutamente Ok Non ha senso Entrare qui dentro Voglio assolutamente Premere un po' Ovunque Per cercare di Questo foglio qua Riporto del dottore Questi Riots Che non so O reels Non riesco a leggere In città Causano un sacco di Victime Di Victims Sì vittime Penso a questo punto Sia tipo la malattia Anche se la polizia Rimane in silenzio C'è qualcosa di sbagliato In questa città Abbiamo avuto Un nuovo paziente Oggi Il suo corpo Era totalmente morso Non siamo riusciti A mantenerlo stabile È morto Ma La morte Non è stata causata Dalle sue ferite No Il problema Era la sua Incredibile febbre Il suo corpo Stava totalmente Bruciando Ma alla fine Il suo corpo Andy Alla fine Ok ci sono Alla fine Il suo corpo Si è arreso E l'esito È arrivato nel suo letto Era morto Non c'era alcun dubbio Un po' di tempo dopo Ho portato il suo corpo Giù nel morgue Che penso sia tipo La segreta Una roba del genere Insomma Sotterraneo Voglio assolutamente Sapere che cosa Ha causato in lui Quella febbre altissima Ho fatto dei test Ma non sono riuscito A trovare nulla di che Dopo tutti gli insuccessi Dopo tutte le ore Senza successo Ho deciso di Abduct Che non so cosa voglia dire Il paziente morto Penso Vivi sezionare Una roba del genere Ci doveva essere qualcosa All'interno del suo corpo Quindi Ho fatto L'Y cut Il taglio a Y Sul suo torace E mentre stavo tagliando Il suo E mentre stavo tagliando Il suo petto Il paziente si è svegliato E mi ha attaccato Era totalmente pazzo E non riuscivo E non mi faceva andare Sapevo che mi avrebbe ucciso Se non avessi fatto qualcosa Ho preso il coltello E L'ho ficcato nel suo occhio destro Era morto di nuovo Ho preso il suo cadavere L'ho buttato nel E l'ho rimesso sul tavolo Delle autopsie E questa volta L'ho spogliato Tide him Non so cosa voglia dire Tide Non è spogliato Non so perché ho pensato a quello Non racconterò questo incidente a nessuno Devo sapere che cosa sta per succedere Quell'amorso che ho ricevuto da lui Era così terribile Ma ora mi sento molto Insensibile Non mi sento così tanto bene Ho mal di testa La temperatura del mio corpo Sembra essere più alta del normale Questo è tutto ciò che ho trovato Riguardo al caso Ok ragazzi Il dottore è quello che è schiattato Che abbiamo ucciso prima Dottor Theodore Moss è stato morso da un infetto Ho visto la sua medicazione E ho allarmato il resto di noi E quindi il dottore è stato messo in quarantena Non possiamo prendere nessun rischio Non possiamo rischiare che qualcun altro venga infetto Chiunque entri in vicino contatto con degli infetti Deve essere messo in quarantena O essere ucciso È l'unico modo Infermiera Joy Che ragazzi Tra l'altro L'infermiera Joy Potrebbe essere Quella che abbiamo Al centro Dei sopravvissuti Ok Ora Mi chiedo Dove io posso trovare le medicine Sinceramente Forse qua Non l'ho controllato Ok Perfetto Trovate Pillole per il cuore Ottimo Ottimo così Ora torniamo indietro Ragazzi Sinceramente Preferirei curarmi Davvero Ok Qua non c'è nulla Qua non c'è nulla Preferisco curarmi Perché ho sinceramente paura di incontrare qualcuno Qua giù Ok Ci siamo curati un pochino Non troppo Però Un pochino sì Eccolo lì il dottore Raga Quello lì probabilmente è il dottore morto Ora non sono sicuro Però Potrebbe tranquillamente essere Ok Entriamo Nel nostro rifugio E andiamo a parlare Ragazzi coltivo Più che altro Andiamo a dargli le sue pillole Ok Perfetto Facciamo anche un bel safe state E' buona Perfetto Vediamo un po' che cosa ci dice Se ci do qualcosa di utile Hai trovato le pillole Giusto in tempo Pensavo che sarei dovuto morire Dal Dammele Ok perfetto Questo dovrebbe bastarmi per un po' Penso che io debba ringraziarti Ehi Che cos'è quello? Tra le pillole c'è una strana pillola Oh E' una di quelle pillole Ecco La do alla tua creatura Schifosa Grazie Che chiami pokemon Ok C'è stata la pillola Ok Ok Perfetto Questa è un'ottima cosa Benissimo E' tipo Ok Ok Mt Perfetto E' la prima volta che ne sento parlare In ogni caso Il tuo piccolo mostriciato Loro può utilizzare slash Causa il doppio slash Stia lacerazione Causa il doppio dei danni Questo è tutto quello che so Ora Sparisci dalla mia vista Ho bisogno di un po' di riposo Bastardo ingrato Ok Perfetto Vedete che l'infermiera Joey non ci può curare E ho fatto bene Diciamo A utilizzare le pozioni Parliamo a Dave ragazzi Ehi C'è qualcosa che voglio Che tu C'è qualcosa che voglio dirti Quando sto passando Dal negozio dei fiori Ho provato a visitare La mia casa Ma Non sono potuto entrare Non sono Non sono entrato Perché Ho sentito Susanna Piangere Voglio entrare in casa mia Per ottenere qualcosa Di molto importante Qualcosa che Di cui ho davvero Davvero bisogno E Non mi lascia libero Un attimo Questo pensiero Ethan I know this has no advantage For our group So che questo Non ha alcun vantaggio Per il nostro gruppo Te l'ho detto È qualcosa di molto personale Ok Sto ascoltando Memento Sto leggendo Memento C'è un memento Nella mia cucina Ho davvero bisogno Di ottenerlo indietro Memento E questo Memento È così importante Per te Voglio dire Sto rischiando La mia vita Là fuori Ma solo per un Memento Dave Mantieni la ragione Tu sei Tu sei Tu hai Tu hai ragione Mi spiace Non so perché ho avuto Questa stupida idea Ah Lascia perdere Penso che tu Penso che tu Penso che Stai Worthless Penso che Tu stia divagando Quando la tua morale Penso che Sia lecito Insomma Quando la tua morale Atterra come questa Morale si intende La morale filosofica Per dire Lo farò comunque Eh Wow Sei davvero You have grown some guts Che non so cosa siano And you are sure you won't do that Sei sicuro di volerlo fare Eh Sì Eh Casa tua non è così lontano Vero? Non dovrebbero esserci problemi Ok Wow Ethan Grazie I owe you one My friend Che non so cosa voglio dire Ok Basta però adesso Quindi andiamo Devo andare nella cucina Sì ci andrò nella cucina Basta che Mi lasci Ok Perfetto Salviamo ragazzi Abbiamo tempo Abbastanza Direi di andare Direi di proseguire Di cattiveria Non so dove sia a casa sua Ma cercheremo di arrivarci Al più presto Zombie non ce ne sono Ok Oh Dovrebbe essere vicino Al Secondo me è questa È decisamente questa Ok Dovrebbe essere questo In teoria Questo dovrebbe essere il momento È una foto Vediamo che cosa c'è qui Oddio Oh Ok perfetto È una foto Penso con la moglie È Dave Insieme a una ragazza No 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 Non mi piace Sto fermo Non mi piace Sto fermo immagino C'è qualcosa scritto Sul retro Vacanza Balneare A Ktanod Una città Insomma Per la più grande Ragazza del mondo O bella Insomma Ti amo così tanto Sono felice Di averti trovato E E ci Trasferiremo Golden Road City Presto Sono così Eccitato Dave Che brutto Se non si fossero mai Trasferiti Probabilmente noi ragazzi Saremmo morti Perché Dave Non sarebbe qui E noi saremmo schiatati Con quella ragazza A inizio seria Dave Ora so perché Volevi questa foto Usciamo da qui Brando Penso che Dave Si sentirà meglio Dopo avergli portato Questa foto Allora Conoscendo sto gioco Da quella finestra In alto a sinistra C'è fuori un Merda Oh cazzo No 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 L'ultima volta Che è successo Una roba del genere Non mi è piaciuto Merda No 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 no